Il big match della giornata va alla folgore, che non lascia alcun diritto di replica ai neocampioni della Supercoppa. Irsci e Perrotta sono gli uomini chiave, le incursioni e i tagli degli esterni zalloneri sono sempre pungenti. La Libertas, reduce dalla vittoria dello scorso mercoledì, ma orfana di Morelli e Simoncini, appare in difficoltà sin dai primi minuti. Dopo tre minuti lancio Perceschi, che spalla alla porta scarica per Pacini. Il destro del capitano è fuori misura. Arriva al quinto minuto il primo sussulto dei Granata, con Facondini, che non riesce ad impensierire seriamente Bicchiarelli. Al quindicesimo la gara svolta in direzione Falzano, passando dalle incomprensioni della retroguardia di Borgo. Golinucci non si accorge del passaggio corto alle sue spalle. Gli uomini di Berardi non si fanno pregare due volte e scivolano velocemente la palla sui piedi di Perrotta, che trafigge Simoncini con un gran destro. La Libertas non trova le misure e alla mezz'ora Hirsch ha due volte la palla del raddoppio. Clamorosa la prima dove il neo nazionale sanmarinese svirgola con il mancino da due passi. Dopo due minuti l'ennesima discesa di Perrotta produce un ghiotto rasoterra, ancora per il numero 7 che questa volta commette fallo. Al trentasettesimo ottimo fraseggio sull'out di destra. Il traversione viene deviato e un rimpallo favorisce Zennaro, ma il suo colpo di testa non crea troppi grattacapi a Bicchiarelli. Sarà l'ultima azione degna di nota per la riete di Borgo che qualche minuto dopo dovrà lasciare il campo per l'infortunio. A suo posto entra Angeli. Mister Berardi capisce che la fascia sinistra è il punto debole. A inizio ripresa fuori il terzino Rossi e dentro della valle a comporre il tridente offensivo con Hirsch e Ceschi, mentre Perrotta parte in posizione più arretrata. Passano tre minuti e Perrotta dalla destra disegna pennello un traversone per la testa di Hirsch. Scelta indovinata e due a zero. La Libertas prova a scuotersi. Al quarto minuto Rocchi lambisce il palo su calcio piazzato. Un minuto più tardi la conclusione di Golinucci è fuori misura di poco. La reazione d'orgoglio viene sopita due minuti dopo. Pacini veste i panni di Perrotta. Il suo traversone è delizioso e Hirsch puntualmente incorna e supera Simoncini per la seconda volta. 3 a 0 per la Folgore. La Libertas appare svuotata mentalmente e fisicamente, fatta eccezione per Golinucci, il migliore tra i suoi, mentre la Folgore gestisce con tranquillità il possesso palla. Al quindicesimo la partita sembra già essere finita, ma la Folgore prova a risuscitare il Borgo. Il pasticcio questa volta lo combinano i gialloneri. Il retropassaggio è troppo corto e Antonelli riapre la gara con un morbido pallonetto. La Libertas prova ad accorciare ancora. Al dicesettesimo della ripresa ancora Antonelli, servito da Golinucci, si libera in area ma il sinistro è fuori misura. Al quarantatresimo lancio di Golinucci per Chierubini, entrato al posto di uno spento Facondini. La girata del classe 95 è fuori misura. Allo scadere, quando il direttore Avoni aveva già il fischietto in bocca, c'è ancora Gloria per Hirsch, che taglia la stanca difesa della Libertas, salta Simoncini e firma la tripletta personale. Termina 4 a 1. Una super Folgore supera una stanca Libertas. Folgore unica squadra del campionato San Marinese a punteggio pieno. Allora Nicola, 4-1 alla Libertas è un risultato importante, si potrebbe dire, no? Un risultato che manda anche già dei segnali. No, ci siamo stati bravi, secondo me, a sfruttare il fatto che la Libertas era stanca per il mercoledì. Ci siamo partiti bene, ci siamo partiti concentrati, perché è quello che dico sempre ai miei ragazzi. Se pensiamo di essere troppo bravi, facciamo solo delle gran figuracce. Quindi noi dobbiamo andare sempre in campo umili, cercando di fare la partita, perché abbiamo dei giocatori che possono fare la partita. Ci siamo stati molto bravi all'inizio, perché abbiamo subito, siamo partiti forti e abbiamo sfruttato il fatto che la Libertas, secondo me, era sulle gambe. Ecco, Adolfo, direi proprio per te, no? Un avvio di stagione davvero da metterci la firma, no? Nel senso che tra i gol in questa partita. Dai, sì, positivo, dai, aiuta per il morale, dai, aiuta per continuare a lavorare in questo modo. Però l'importante è che noi ci conosciamo un po', ma adesso stiamo cercando di conoscersi meglio con la squadra. Io sono uno dei pochi nuovi arrivati, quindi diciamo che i punti positivi sono quelli che la squadra, dai, sta cercando di migliorare partita a partita e per adesso sta andando bene, dai.